... Venerdì 5 settembre ben ritrovati con la rassegna stampa, oggi dedicata interamente allo sport nazionale e locale, in studio Gabriele Silvestri e Daniele Silvestri. Allora, prime pagine dei quotidiani sportivi dedicate quasi interamente al debutto di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale, un debutto certamente positivo secondo quanto evidenziano appunto le prime pagine della Gazzetta e del Corriere dello Sport, partiamo però dalla Gazzetta, felici e contenti il gioco di parole ovviamente che richiama l'allenatore della nuova nazionale Antonio Conte che Italia, la nuova avventura parte benissimo, Olanda battuta 2 a 0 davanti a 48 mila spettatori di Bari e Immobile e Zaza esaltano il debutto azzurro del CT, un avvio travolgente, evidenzia la Gazzetta, va in gol appunto l'ex torinista Immobile e subito dopo l'attaccante del Sassuolo si procura un calcio di rigore e lascia in 10 gli avversari, segna poi Daniele De Rossi dal dischetto, azzurri promossi in blocco. Questo è quanto evidenzia la Gazzetta dello Sport in taglio centrale con una foto di Antonio Conte visibilmente soddisfatto lancia baci alla Tlatea e ancora si parla anche di Under 21 che giocherà questa sera con la Serbia a Pescara, stasera tocca a Berardi, talento italiano dell'Under 21 che si gioca però l'europeo. In taglio alto invece si parla di Juventus e di Milan per quanto riguarda la squadra milanese, Montolivo accelera rientro a novembre, la possibilità di un'anticipazione del recupero del centrocampista mentre Mourinho si esprime su Torres e dice che stupirà la Juventus invece si parla di Tevez, il CT Martino lo segue ma è duello con i turbe, quindi riguarda la nuova nazionale Albi Celeste, Tevez la spinta in più, si riaprono per lui le porte dell'Argentina e ancora vediamo in taglio centrale la ricorrenza che riguarda il Napoli, dieci anni di Napoli, un bel colossal firmato della Vrentis che festeggia appunto il decimo anno di presidenza della squadra partenopea mentre l'Inter la cena del disgelo con Toir e Moratti tornerà a San Siro, i due presidenti si sono chiariti e ancora vediamo più in basso clamoroso storica sentenza in Brasile stangata per cori razzisti, il gremio viene escluso dalla Coppa, in taglio basso invece si passa alla Formula 1 con l'intervista Wolf, il capo della Mercedes a casa Gazzetta in vista del Gran Premio di Monza, Nicola ha pagata cara, in Belgio colpa di Rosberg, per lui multa salatissima, se potessi scegliere due nuovi piloti si esprime scegliendo Alonso e Bottas, ecco poi ancora il tennis agli US Open, brava pennetta, doppio in finale con la Inghis e poi alla Vuelta il caso eside dal bici con il motore, il giallo in un video e poi il lutto aveva 92 anni, addio a Nani Pinarello, icona delle due ruote questa era la prima pagina della Gazzetta dello Sport, da qui passiamo invece al Corriere dello Sport che ovviamente esalta la partita, la prima partita di Conte con la Nazionale l'Italia brilla, il titolo applausi per gli azzurri che festa a Bari, risultato di 2 a 0, Conte parte alla grande battuta all'Olanda, quante occasioni, Immobile e De Rossi sul rigore sono i marcatori, bene anche Zaza, mentre martedì il primo impegno valevole per le qualificazioni con la Norvegia, in basso vediamo il titolo che riguarda la Lazio, Lazio Gentiletti c'è, è pronto a giocare, lo aspetta il Cesena, lutto bianco celeste, addio alla signora Maestrelli, mentre in taglio alto la questione stadio della Roma, pallotta alla fine si piega, lo stadio resterà alla Roma, riguarda appunto la questione sulla proprietà effettiva dell'impianto, il club giallorosso senza sponsor, ricavi bassi per il marketing, questa è l'altra faccia della medaglia, questo per quanto riguarda gli introiti della società calcistica della Roma, mentre l'editoriale di Alberto Dallapalma, ovviamente dedicato alla Nazionale, che è già nel segno del nuovo commissario tecnico, ecco quindi un debutto di Antonio Conte sulla panchina che ha convinto bene o male tutti, in taglio basso vediamo l'operazione di Giuseppe Rossi, pepito sotto i ferri in Colorado, sceglie gli Stati Uniti ancora una volta per l'operazione, mentre la Formula 1 vede una possibile clamorosa svolta con Montenzemolo che va verso l'addio la Ferrari, quindi chiude un'epoca e manager atteso dalla presidenza all'Italia Etihad al cavallino in pole, per adesso c'è Marchionne. Dal Corriere dello Sport passiamo alle sezioni sportive dei quotidiani nazionali, questa è Repubblica che con una bella foto con Zaza, De Rossi e Bonucci parla appunto della grande prestazione, troppa grazia a Mister Conte, un debutto sprint, immobile al terzo e rigore di De Rossi al decimo con Olanda ridotta in dieci e subito festa e ancora la mano si vede ma aspettiamo quanto evidenziato da Gianni Imura, immobile ha firmato il primo gol ufficiale con la Nazionale, dice sono contento, assimilate le richieste di Conte, lo conosco da Siena e il solito martello ovviamente riferito al modo di approcciarsi con i suoi calciatori del tecnico, Zaza invece ha detto mi sono goduto l'inno, sono soddisfatto ma mi sono mangiato un gol, faccio quelli difficili e sbaglio quelli più facili. De Rossi si esprime anche su Conte, vincere per Conte è tutto, ripartiamo da uomini veri, chi non capisce cos'è l'Italia non può starci, specifica mai parlato di Balotelli, vediamo ancora quanto si evidenzia per ciò che riguarda l'Under 21 con la Serbia, serve la vittoria alle qualificazioni agli europei di viaggio e ad un bivio, un passo falso fatale anche per le Olimpiadi. Vediamo anche una possibile formazione di questa sera con Bardi in porta, la difesa composta da Zappacosta, Bianchetti, Antei e Biraghi, a centrocampo Sturaro e Crisetig, poi Bernardeschi, Berardi e Battocchio, il trio dietro la punta, Belotti questa sera alle ore 20.30 in diretta su Rai 3 la partita dell'Under 21 e poi il focus su Antonio Conte con un trittico di fotografie che lo ritraggono in diverse espressioni, la notte felice del CT urla grinta e abbracci ma la Norvegia è tosta, fa sapere il tecnico, un bagno di folla, poi la solita furia con rimproveri e applausi. E dice ho già visto la mia idea di gioco e vincere aiuta a vincere e dalla Repubblica passiamo rapidamente al web con le ultime novità di quest'oggi. Eh sì Gabriele perché non abbiamo visto in forma cartacea andiamo quindi a vedere in che modo intende aprire tutto sport in questa giornata importante a livello nazionale ma che si intinge fortemente dei colori bianconeri della Juventus e proprio di Juventus ovviamente come di suo costume apre tutto sport parlando di insaziabile Barzagli uno dei leader della difesa bianconera che è stato assente in nazionale ovviamente per l'infortunio. Barzagli si sofferma in questa intervista che apre appunto tuttosport.com parlando di Allegri. Allegri ci fa bene, alla Juve voglia di vincere. Chiaramente sono forti le tinte juventine su tuttosport.com si parla di Pogba che parla nuovamente di Conte che da cattiveria e poi di Coman definendolo uno fantastico. Nel frattempo si torna anche sul tema portante della nazionale parlando ovviamente di Antonio Conte che da pochissimo tempo da mezza estate ha lasciato l'avventura bianconera Conte che dichiara appunto la strada è lunga ma vincere aiuta a vincere. E ancora grande Conte la dichiarazione di Bobo Vieri, l'attaccante gira squadre, finalmente gente che corre e ama la nazionale. Tuttosport accenna anche al tema della Roma, al tema dello stadio provato alla pubblica utilità per il futuro impianto giallorosso ma qui si dà l'accento sulle dichiarazioni di Baldissoni che vedremo anche più avanti appunto nell'approfondimento web. La Roma è pronta ma alla fine vince uno solo. Questo è il taglio di Tutto Sport data questa notizia riferita ad un intervento in esclusiva di Baldissoni e tutto tondo sulla stagione giallorossa. E poi ancora calciomercato con Sanchez Mino, Ventura trasmette voglia di giocare. Sanchez Mino uno dei futuri probabili crack, si usa dire così ultimamente, del calcio nazionale italiano. L'ultimo straniero in ordine di tempo arrivato qui in cerca di fortuna. Tornando sempre in tema Torino, città di Torino e quindi nazionale, ecco qui accanto l'approfondimento su Immobile, Conte Martello mentre De Rossi definisce la prova degli italiani prova da uomini veri. Ovviamente torna sul tema della nazionale di calcio anche uno dei principali portali dell'informazione sportiva nazionale Sky Sport HD che oltre alle diverse aperture in tempo reale dedicate come vedremo dopo ai dieci anni del Napoli dell'Aventis e alle nuove novità in tema Milan oltre che sullo Stato della Roma. Da ampiamente risalto alla buona prestazione da parte della nazionale italiana al debutto stagionale amichevole con l'Olanda, ecco qui vediamo in taglio basso, è iniziata le racconte, intrapreso il percorso giusto. Mentre poco più avanti c'è un approfondimento abbastanza interessante che analizzeremo poco in seguito su il modo in cui cambia il modulo della nazionale italiana nel corso del tempo, un modulo che è passato dalle mani di diversi commissari tecnici partendo da Donadoni, poi Marcello Lippi con il doppio mondiale, uno fortunato uno meno, è successivamente arrivato tramite Prandelli ad Antonio Conte con il suo esordio. Torniamo un momento su gazzettadello sport.it con i suoi approfondimenti, anche qui analizzeremo poco avanti. L'approfondimento ultimo in ordine di tempo riguarda Berlusconi e questo blitz a Milanello per Torres e Bonaventura, ovvero per conoscere più da vicino gli ultimi due colpi di mercato della società rossonera, il Nino Torres che arriva in prestito biennale dal Chelsea e Bonaventura, un ultimissimo colpo di mercato sottratto tra l'altro ai cugini, nemici dell'Inter con un'ultima appunto manovre di mercato, doveva arrivare all'Inter, al Milan l'attaccante esterno del Parma, dopodiché si è virato su Bonaventura. Possiamo anche andare brevemente a leggere questo approfondimento di gazzetta.it relativa appunto a Berlusconi. Terza visita da inizio della stagione, il Cavaliere fa sentire sempre di più la sua presenza alla squadra. Stavolta l'occasione è dare il benvenuto ai nuovi acquisti presi a fine mercato. La prima fu una sorpresa, la seconda un indizio, la terza volta e adesso una conferma. Silvio Berlusconi è alla sua terza visita a Milanello, da quando è cominciata la stagione. La prima alla vigilia dell'impegno di Team Cup, poi venne la vigilia dell'esordio in campionato contro la Lazio e adesso l'occasione è data dal mercato. Il presidente onorario rosso-nero, Silvio Berlusconi, è atterrato a Milanello in mattinata per portare il suo benvenuto a Fernando Torres e Jack Bonaventura. Gli ultimi due acquisti del Milan inseriti nell'organico di Pippo Inzaghi negli ultimi tre giorni dell'ultima finestra di mercato. Van Ginkel non c'è, è già in ritiro con Olanda Under 21. E poi ovviamente si parla della strategia, la linea del Cavaliere comincia dunque ad apparire sempre più chiara. Per benedire un nuovo corso tecnico del Milan legato alla figura del tecnico Pippo Inzaghi, Silvio Berlusconi ha deciso di essere sempre più presente, vicino al suo Milan. Consigli, battute e buon umore. D'altronde dopo l'ottimo avvio in campionato con la Lazio, vittoria a San Siro per 3-1, al Milan non può che essere tempo solo di sorrisi. E con questo approfondimento, questo articolo dell'ultima ora relativo al blitz di Silvio Berlusconi, come abbiamo visto il terzo blitz in ordine di tempo, in pochissimo tempo dal suo ritorno in pompa magna, come dire, ad occuparsi delle questioni milaniste, noi nel frattempo ci prendiamo un piccolo break, una piccola pausa e torneremo con ulteriori aggiornamenti sia sul web che ovviamente sui quotidiani.